festa del 2 giugno che vedrà l'anticiclone interessare maggiormente la nostra penisola si estenderà su tutto il mediterraneo favorendo quindi un minor rischio di temporali anzi il sole sarà un po protagonista su tutte le coste del centro sud anche le isole maggiori ma non solo anche in pianura padana e sulle coste del nord est via libera gli spostamenti alle gite fuori porta anche al mare perché il clima sarà assolutamente estivo vi segnalo solamente immancabili temporali di calore sulla drossale appenninica nel tardo pomeriggio ma saranno veramente fenomeni occasionali isolati e fugaci e poi anche sull'arco alpino il locale sconfinamento alla fascia pedemontana della lombardia e del piemonte occidentale anche qui nel tardo pomeriggio appunto isolati temporali di calore ma la giornata nel suo complesso è buona appunto vi dicevo temperature estive tra sabato e domenica massime diffusamente tra 25 28 gradi punte anche di 30 gradi sulla sicilia e tagli più precisi come sempre sull'app di trevi meteo